Estra ha scelto di essere lo sponsor di questo grande evento omosinale. Per la portata dell'evento abbiamo valutato che questo evento possa avere su questo territorio una rilevanza importante e quindi Estra è un'azienda di questo territorio che come tutti sanno tende a valorizzare le best practices. Questa non ci sembra veramente un'esperienza di valore di questo territorio. Del resto poi noi siamo storicamente, abbiamo sempre dato una mano a Torita Blues quindi questo è il proseguimento, questo evento sta in questo contesto e proprio per la rilevanza nazionale e internazionale Estra ci vuole essere e darà una mano affinché questa manifestazione abbia tutto il discontro e l'eco così sia la di te.